Grande Fratello 2023, fuori il nome. Alta tensione nel corso delle ultime puntate del reality show di Alfonso Signorini Riflettori rimasti accessi sul caso di Beatrice Luzzi, sempre più distante dalla gran parte dei concorrenti e con molti dubbi sul proseguire o meno la sua corsa E ancora, lite accesissima tra Menuzzi, Fiordaliso e Varresi, ma anche le rivelazioni di Perla Battiero su Mirko Brunetti Insomma, chi più ne ha più ne metta. Adesso un'altra notizia che vola tra i fan alla velocità della luce Fuori il nome del preferito al Grande Fratello 2023 Le dinamiche in casa si fanno sempre più decisive, i concorrenti proseguono la corsa verso la puntata finale sperando di schivare il rischio dell'eliminazione E dopo il sondaggio dopo il lancio del televoto che vedrebbe Salva Fiordaliso e inclune all'uscita di Cena Monia, ecco le ultime news sui concorrenti Fuori il nome del preferito al Grande Fratello 2023. Il primo posto va senza dubbio a lei Chi è il preferito? Si sta concludendo la ventesima puntata del reality show di Alfonso Signorini e tirare le somme diventa quasi necessario per giungere ad alcune previsioni significative Dopo il sondaggio sui concorrenti, sei in tutto, mandati spediti al televoto, anche quello di Novella 2000.it sul concorrente preferito della 27.1 Rullo di tamburi, stando ai dati registrati sembra che all'ultimo posto della classifica si qualifano ben quattro concorrenti, che sono Stefano Miele, con lo 0% dei voti, alla pari di Marco Maddaloni, Letizia Petris e Grecia Colmenares La concorrente potrebbe non aspettarsi questo disastro. Poco più su con l'1%, Sergio Dottavi, Rosi Cin, Paolo Masella, Monia Laferrera, Massimiliano Varese A seguire Marina Fiordaliso, con il 2% dei voti a pari merito con Greta Rossetti, Giuseppe Garibaldi e Federico Massaro Ed eccoci arrivati ai primi in classifica, con un quarto posto occupato da Vittorio Menozzi, con il 4% dei voti, seguito da Anita Olivieri, con il 4% dei voti, dunque per Lavatiero Con il 19% dei voti e sorpresa, Beatrice Luzzi ben piazzata al primo posto con la bellezza del 58% dei voti che segna un netto distacco dai compagni di gioco Dubbi a riguardo? Neanche così tanti in verità